Norme di regolamento in un ospedale psichiatrico. Gli infermieri non devono tenere relazioni con le famiglie degli ammalati, darne notizie, portar fuori senza ordine lettere, oggetti, ambasciate, saluti. Né possono recare agli ammalati alcuna notizia dal di fuori, né oggetti, né stampe, né scritti. In questa lettera, datata 1914, le parole di un padre, costretto all'umiliazione di chiedere ai figli i soldi per le sigarette, costretto quasi a supplicare una risposta che possa tranquillizzarlo, che possa farlo sperare in un ritorno a casa. Queste parole, mai giunte a destinazione, ci rendono una straziante testimonianza della sensazione di solitudine che si doveva provare in un luogo come il manicomio. Carissimo figlio, sono con la presente a farti sapere l'ottimo stato di mia salute, così voglio sperare sarà di te e di tutta la famiglia. Io non so proprio cosa pensare di questo tuo ritardo nello scrivermi, che a momenti è un anno che non ricevo più notizie di voi altri e credi che sto molto in pensiero. E mi meraviglio perché per il passato mi avete sempre scritto e mi avete sempre mandato qualche cosa. Ora io non so se vi siete dimenticati di vostro padre. che per il passato mi avete sempre voluto bene e credo di essermelo meritato. Mi farei sapere di Cecchino se si è ingaggiato un'altra volta, perché ancora da lui non ho ricevuto nessuna notizia, sì che per prima mi ha sempre corrisposto. Mi raccomando dunque a te che tu mi faccia tanto la carità di rispondermi perché credi che senza vostre notizie sto molto ma molto male e spero che mi farai contento. Sai bene che fumo e stare sempre a chiedere a quello o a quell'altro mi vergogno e poi sai ti possono dare una fumata una volta. Poi non te la danno più, te la danno più. Dunque mi raccomando a te, se tu mi puoi assistere col mandarmi qualche cosa, pensa che sono tuo padre, senti magari ancora Cecchino e fra tutte e due guarda se mi potete contentare. Poi credi che qua giù vengono a trovare gli ammalati di tanto lontano? Io proprio non so come mai voi non vi rimava mai la coscienza di venirmi a fare una visita che credi bramerei tanto di rivedervi. Una volta ero vostro padre, ora si vede forse che non lo sarò più. Riceverai intanto tanti saluti e baci, ne ripasserai ai bimbi, a Vincenzo, a Cecchino, a Sandrino e a tutti di casa, tanti saluti a tutti gli amici e chi dimanda di me. Mi dico tuo affezionatissimo padre Riccardo B. Riccardo B.